è bellissimo qua è straordinario dove vedi vedi è bello peccato che riesco a passare solo due mesi all'anno qua lui ci passerei tutto l'anno è un peccato per me magari, vedi alloggio in quella casa lì sopra quella? la più bella o? e come te la sei fatta? e quella l'ho ereditata da mio nonno che uomo, un uomo tanti pregi ma soprattutto il coraggio tu pensa che c'era il circo giù in paese entrò dritto nella gabbia del leone veramente quando è uscito poi che festa l'hanno fatta eh mica è uscito senti quella invece è la casa mia zia non è molto coraggiosa è viva quindi infatti senti veniamo al bar che ti faccio vedere un altro